Avete già messo pollice in su? Perché? Perché Lughe è Lughe 4317 Benvenuti a tutti in questo nuovo episodio della Estremo Springtraft Ragazzi anche oggi il listac, ve lo ricordo sempre 5000 pollici in su per un extra, 6000 pollici in su per due extra e così via Poi per il terzo extra sono 8000 pollici in su ma al raggiungimento dei pollici in su appunto entro le 16 Entro e non oltre le 16 perché sennò poi io non posso più fare gli extra entro oggi Perché se alle 16 inizio a registrarvi gli extra quando cavolo ve le carico, giusto? Eh, un attimo di concentrazione e interezza interente Ragazzi molti di voi mi stanno richiedendo la mappa in non load Cioè io, io costruisco tutta questa roba, no? Tutta questa roba io, uno costruisce, no? Tutto, eh? E poi ve la metto così Oh cazzo, scusami A parte le badanti con le ciance Ragazzi sì, potrei rilasciarvi la Ciao pirla, pirlo Potrei rilasciarvi la mappa in non load Potrei, però Vi do un però Vi dico un però Eh, lo so, è brutto da dirlo ragazzi Però è un però Perché perlomeno è anche un ostacolo Se per voi che per noi Che per me in questo caso Se uno Se uno Non dico questo Ma uno qualsiasi dei video di questa serie Siamo al 67esimo episodio Eh, per cui Se uno di qualsiasi video di questa serie Arriva O dovrebbe arrivare A 25.000 pollici in su Allora io vi rilascerò la mappa Eh, è brutto da dire ragazzi Lo so che è brutto Uno dice Allora che cazzo male Foto me la faccio io Ok, allora fatela Non c'è nessun problema Io ve la lascerei anche oggi Però Visto che lo fanno tutti Dico tutti Gli youtuber italiani Ora è tempo che io mi adegui Al Come si sta Trattando i fan Ultimamente Io non dico vi tratto male Per l'amore di Dio Però Devo adeguarmi anche io Luke, questo è un ricatto Sì, è un ricatto Vuoi la mappa? Spallicia Non la vuoi? Amen Guardate il video Ridi comunque Se ridi Divertiti Rilassati E fai quello che vuoi Io non ti obbligo È solamente una richiesta Non è un obbligo Ok, allora Ragazzi Mi avete Come al solito Leggo i vostri consigli Mi avete detto di Su questo parte di muro Mettere delle G Per stare a indicare I GG Game Grabbers Ok, io lo farò in questo video In questo episodico Lo farò Lo farò in questo momento Allora Andiamo a sfondare qui Per cui faremo Sto pensando se fare GG O G e G Facciamo G e G Tipo Dolce Cabana Ma quella cosa lì Allora Uno, due, tre Vediamo un po' Se viene così No No Allora è alta Ah Però poi lì Si jump Ciunge Si jump Ciunge E allora così E allora per forza così Allora Vediamo un po' One, two, three Four, five, six Seven, eight, nine Perfect Continuiamo a rompere Anche di qua Ora vi faccio vedere Come è venuto È venuto di cacca Proviamo a vederlo Anche con l'altra texture Ok, così Allora sono due Due Perfetto Prendiamo le misure Qua ci mettiamo La barba a vetro La nera E poi da qua Iniziamo a fare la G Ragazzi Come avete visto C'è un bel Un bel post Sul mio facebook Odierno di oggi Bello fresco fresco Effettuato questa mattina Grazie a un video Che ho visto Da un youtuber Che si chiama Il piccolo mello Lui si definisce grandissimo Ma per me Già è tanto Sei piccolo In questo momento Perché Fino a poco tempo fa Era nulla Era proprio nulla Ultimamente È cresciuto un po' Per cui per me È diventato il piccolo Del mello Ok A parte gli scherzi Ragazzi Ho visto un suo video Eh sì Strano ma vero Ho visto un suo video Me lo hanno Logicamente passato E ho voluto fare Un post Su questa faccenda Allora Tutti voi sapete Che io ho Server di gioco Ossia il main combat Come voi sapete Server di gioco Questa parte della montagna Devo toglierla Allora a questo punto Sì Ho server di gioco Come il server Di minecraft Da Quattro anni A questa parte Più o meno Tre anni Tre anni tutti Poi ho un team speak Pubblico Che ce l'ho da un anno e mezzo A questa parte Entrambi belli e costosi Ok Che ci ospita Logicamente Grazie Del tutto Ah game hosting Però l'ospitare Ragazzi Molte volte Voi non capite Le cose che ci sono dietro Le quinte L'ospitare Game hosting Ci ospita Perfetto Però non è detto Che ci ospiti gratis Non è detto Che io non paghi Come tanti hanno detto Eh ma Luca Ma tu questi servizi Non li paghi Scusate Ho fatto la nanna Intanto guardate Ho finito i pantaloni Per cui metto questi E questi li tengo di scorta Poi mi sta per terminare La maglietta Allora Faccio un'ascia Ragazzi Vado a raccogliere Un sacco di legna Perché il mio prossimo progetto È Veramente Veramente grosso Ed è uno di quelli Che ho fatto ieri in live Ieri in live Per chi mi ha seguito Ho fatto un'enorme casa E voglio riproporla Qua Visto che è piaciuta a tutti Ok magari è un po' modificata Ma voglio appunto riproporla Tornando al discorso di prima ragazzi Oggi in questo video Non faccio nulla Eh di che Taglio legna Ok Se vi sta bene è bene Però intanto vi parlo E quello è l'importante Una cosa che voglio premettere È che Mi dà fastidio farlo Senza la faccia Ossia senza Non riesco a metterlo a web ragazzi Perché non ho tempo Veramente Se volete Un approfondimento Su questa storia E non vi basta questo video Basta scrivere Hashtag Vogliamo un approfondimento Che è brutto da dire così Però O inventate voi L'hashtag Più appropriato Che comunque sia Vi faccio un vlog Dove vi parlo di questa storia Perché È una storia che ora vi racconto E a me È andata giù Ma no Può convincermi Ma meno Ora vi spiego Ho visto questo video Di questo piccolo Youtuber Ok Il piccolo Dellimello Lo so che si incazzerà Per questa cosa Però a me non interessa Perché È scherzoso È abbastanza intelligente Da capirlo Però ha fatto un video Molto intelligente Che poi il suo video sia Perché è stato cacciato Da questo gruppo Allora è un video Un po' sputtanamento time No? Eccetera eccetera Però comunque sia Secondo me Conoscendolo Lo avrebbe fatto comunque La saputa Dopo la saputa Di queste cose Lo so che non è italiano Corregiuto Però Perdonatemi In poche parole Ragazzi Come detto prima Io Ho un TS Ho un server di gioco Ogni tanto scendo in pubblica Ogni tanto Molto spesso E passo diverse ore Nel team speak A parlare con gli utenti Che ci seguono Molte volte Addirittura Scendo in pubblica Come tutti possono Come tanti possono dire Regalo giochi Così random E non perché ho delle chiavi Ma perché Molte volte Li ho acquistati In quel momento Su Steam Di tasca mia E ora Non è che entrate nel TS A chiedermi i giochi Se no poi Da Luke 4316 Passerei a Babbo Natale 4316 Visto la mancanza di fondi Sarei più Babbo Che Natale E Per cui Stavo dicendo appunto Tutto questo Che faccio da anni Lo faccio gratis Visto che Non è il visto che Ho fatto un post Sul mio Facebook Ok Facendo notare Che alcuni youtuber Precisamente uno In particolare Lo fa Essendo pagato Ossia Se mi donate Se raggiungiamo Queste soldi Eccetera eccetera Io apro il TeamSpeak Se mi donate Questi altri soldi Io oltre ad aprire il TeamSpeak Vi creo la stanza privata Dove ogni tanto scendo Se donate alcuni soldi Io vi aggiungo Al mio account Facebook Privato E tante altre cose Cioè Ora Non c'è nulla di male Perché ognuno è libero Di fare ciò che vuole Per l'amor di Dio C'è la libertà in Italia Arcalogia Arrestano Quelli che veramente Non meritano un cazzo Magari per sbagli di persone Eccetera eccetera E poi lasciano liberi Chi dovrebbero Comunque Dicevo Appunto Siamo in Italia Comunque Dicevo appunto Io Che lo faccio Da anni gratis Come per esempio Ultimamente Non solo io Ma la maggior parte Di youtuber Per colpa dei feed Eccetera eccetera Hanno reso L'account Il Facebook Privato Pubblico Lo hanno fatto a gratis Perché E per un'altra cosa Ragazzi Per raggiungere Per far raggiungere Un amico In Facebook Privato Eccetera eccetera 50 dollari La richiesta è 50 dollari So per diventare un albero Anche io Ragazzi dove voglio parare Voglio parare che Non voglio criticare Il gesto di queste persone Quello che stanno facendo Che molti lo valutano Come chiedere le mosine Bla 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 Su questo posso contestare Perché anche io In primis Ho chiesto Richiedo Molte volte Delle donazioni Richiedo Ho messo lì Il tasto donazioni Chi vuole le fa In live Ma in live è diverso Perché A parte che se io vado in live Non vado mai in live Per un'oretta 40 minuti Perché sarebbe come dare il contentino No è come un lavoro Vado in live Per quello Perché in un'ora Ragazzi di live Un'intelligente ci sa fare Si possono fare parecchi soldi E non solo con le donazioni E già Chi vuol capir capisca Io quando vado in live Vado in live Dalle 2 alle 7 8 ore Lo faccio Non tutti i giorni Magari una volta Ogni Ogni sempre Però Quando posso Lo faccio Perché mi diverto io in primis Mi piace fare lo streamer Che non è nulla A vedere con lo youtuber Perché lo streamer è tutta altra cosa Ed è una grossa fatica molte volte Però lo faccio perché mi diverte Perché voglio far divertire E perché tanti mi seguono Solo per quello Ok Poi c'è il guadagno C'è la partnership Ci sono le donazioni Ma la maggior parte delle donazioni Io le spendo Direttamente in live Per esempio Il gioco ad airstone Mi arrivano le donazioni Apro i pacchetti Molte volte giocavo a counter strike Mi arrivano le donazioni Apro le casse Eccetera eccetera Una volta invece Mettemmo le donazioni Mi arrivarono delle donazioni E io mi comprai Il giorno dopo La mattina dopo Tre webcam Voi direte Voi direte Sì Perché siccome era il periodo Che la sera tardi Facevo i live Montando i lego Io mettevo Una webcam su di me Una webcam sulle mani Mentre montavo i lego Una webcam La mettevo Per far vedere Sulla scatola Il progetto finale Di ciò che stavo costruendo Voi potrete anche dire Luke Che cazzo ce ne fotte Di questa storia Stavamo parlando Di un altro discorso E no E no E no Sto parlando di questa storia Perché quando io poi Ho messo il post su facebook Mostrando L'youtuber Tra virgolette Che io ormai Li definisco star Come sempre Non mi cambio mai Anzi una cosa Che posso vantarmi Di me stesso Che da tre anni A questa parte Potete insultarmi In qualsiasi modo Ma mai dire Che io sono incoerente Perché sono sempre Stato coerente Sul mio canale E come persona E di tutti i tipi Di discorsi Ho fatto un post Sul mio facebook Facendo vedere Cosa fanno Gli altri youtuber Con degli screen A differenza mia Ok Io ho solamente Commentato Sto dicendo E io che lo faccio Gratis Che sono Stronzo Punto di domanda Basta Finito lì Molti di voi Commentano col dire Eh ma però Eh ma tu hai fatto Ma tu hai detto Eh ma cosa c'è di male Niente Niente E per quello che io oggi Sono in questo video Sto dicendo Cosa faccio io Cosa fanno gli altri Per vedere le differenze No E il Cosa te ne fotte a te Per esempio No Oh oh Molti Molti Sul mio facebook A quel commento A quel post Mi hanno risposto Col Che cosa c'è di male Ora Alla risposta Che cosa c'è di male Per l'amor del santo cielo Cleopatra Non c'è nulla di male Però Visto che non c'è nulla di male Per tutti gli altri È sempre così È sempre così Ok Come è Così rimane Per tutti coloro Che mi hanno risposto Cosa c'è di male Nulla Semplicemente un piccolo cambiamento Da oggi Quando vuoi entrare nel mio team speak Paghi Paghi 15 dollari 15 dollari Ma io entrerò nel team speak mutato Nella tua stanza Se me dai altri 5 dollari Mi smuto Se me ne dai altri 7 Vediamo magari Faccio qualche movimento Col microfono Per cui tu vedrai L'ampeggio del team speak Con 47,95 dollari Posso salutarti Ti sta bene Ora rispondimi ancora Cosa c'è di male Vediamo se c'è i coglioni Se non c'è nulla di male Allora tu oggi Entri nel mio team speak Oggi però Oggi Davanti a tutti Entri nel mio cazzo Fottuto Team speak E mi paghi Mi paghi quei soldi Per parlare con me Poi Torni su facebook A dire Cosa c'è di male Ok Sto continuando a cercare legna Intanto ragazzi Sono un po' nervoso Perché c'è tante cose da dire Ma non so come dirle Perché poi tanti mi capiranno Tanti mi andranno contro Non me ne futto Un cazzo proprio Io Ho sempre parlato Ho sempre detto ciò che penso Come fanno tutti gli altri La stessa persona ragazzi Una delle stesse persone Non voglio fare il nome E stringere il cerchio Parliamo in generale Vasto largo Una delle stesse persone Che fa questo Usa questo sito Che si chiama Pornstrip Però non mi ricordo Come si chiama il sito Non voglio manco Fare pubblicità Quella vacca cacca Era la stessa persona Che in alcuni live Mi dava dei moni grabber A me A me Io faccio video per i soldi Dicevo a questa persona E oggi lui chiede le le mosi Nei fan Cioè Cioè Vedete come piccolo il mondo Vedete il Lo sputa in cielo Che in faccia ti ritorna Quante facce sono macchiate di saliva In questo periodo Lo vedete ragazzi Io Vabbè 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 Ognuno può prendere personale Come cazzo vuole ragazzi Ora Non parliamo da piccolini Come siete voi Molti di voi Parliamo da un po' di più adulti Magari questo video Fatelo vedere i vostri genitori Tu Che mi stai guardando E magari Hai 12 13 14 anni Quel che l'è Senza offesa Però magari Fai vedere questa parte di video Ai tuoi genitori Perché ne sarebbero molto interessati In Italia Come nel mondo Del resto del mondo Oggi C'è molta crisi Il lavoro scarseggia Anche se i soldi ci sono C'è la crisi del lavoro Ma non la crisi dei soldi Questo è il mio pensiero Perché Non voglio scendere ai particolari Però molti dicono Non ci abbiamo soldi Però magari giocano all'otto Vanno al bingo Giocano d'azzardo Nessuno c'ha soldi Ma poi in estate Le migliori vacanze Eccetera Sono discorsi un po' Generali Magari un po' più Diretti Da alcuni soggetti Parliamo un po' di altre cose La mancanza di lavoro La mancanza di lavoro È una cosa che veramente Ci appartiene Quest'ultimo periodo Soprattutto Dite che falliscono Lavoro che non si trova Io in primis Ho perso il lavoro Ho perso anche mia moglie E stiamo ancora cercando E mi sto accontentando Delle entrate di Youtube Per comparare le spese Mensili Per una famiglia Ricordo che ho quattro figli Anche da mantenere E logicamente Grazie a Youtube Do qualcosina da mangiare Ai miei bambini Però devo anche fare altro Devo anche fare altro Che poi siano live Che poi siano collaborazioni Che poi siano lavori miei personali Sono cazzi miei quelli È tutto esterno Che io non parlo nei video E non metto voi In prima linea Ok Voi siete Tra virgolette Chi ci segue Punto Sto anche parlando un po' di fretta Ragazzi Oltre a nervoso C'ho la bambina di là che piange E devo fare questo video in fretta Perché poi Ho da fare E si sta anche prolungando Questo video Magari lo taglierò Ragazzi ho sacco di cose da dire Tornando al lavoro Perdonatemi Dico l'ultima cosa Perdonatemi Tornando al lavoro C'è appunto gente Devo andare a casa Faccio il terratasporto Parlando appunto del lavoro Che questa è magari Una delle cose Che tocca più me E molti altri Visto che appunto Io sono ancora in cerca E cercherò Non cercherò Sono fatti i miei E bla 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 Non voglio stare qua A fare il pescivendolo Perché ho perso il lavoro Scusate per il pescivendolo È una battuta brutta Però Però c'è gente Che magari aveva un lavoro E l'ho abbandonato Per restare su youtube E E E Ok 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 Già Già il gesto Come va oggi il mondo Youtube può dare tanto Ma può anche togliere tutto Da un momento all'altro Perché youtube Può farti tante visite Oggi e zero domani Youtube non è un lavoro fisso E ok Sono scelte Sono scelte Che io non Posso non condividere Ma non posso Contestare Ok Perché non voglio scendere Nei meriti di queste persone Però Però Uno non può Mollare il lavoro fisso Per Lavorare Tra virgolette Su youtube Se poi Per l'attrezzatura Di youtube O peraltro Si apre un sito Stile Indiegogo Eh Scusatemi Eh Eh Vi faccio un esempio Poi per l'amor di dio Magari ho capito male Io eh Mi sono totalmente scemo Potrei capire male Faccio un esempio Io lavoro in una fabbrica E guadagno abbastanza Mi mantengo Me e la mia famiglia A un certo punto Decido di Mollare il lavoro Della fabbrica fisso Per andare a fare Che ne so L'arbitro delle partite Così perché Perché voglio fare L'arbitro delle partite Ok Però È stata la mia scelta Ho cambiato lavoro L'arbitro delle partite Mi dà molto di meno Cetera eccetera Molto di più Sono fatti miei Poi siccome Arbitro delle partite Per cui molti giocatori Mi conoscono Io mi faccio pagare I debiti O mi faccio pagare Eh Non lo so L'attrezzatura Tipo l'abbigliamento Le scarpe con i tacchetti nuove O O la borsa nuova da portarmi O il deodorante Perché quello che ho Fa schifo E dei cinesi Eh Allora voglio comprarmi Quello di marca Dell'axe Eh Cosa succede? Me lo faccio pagare Dei giocatori Perché apro un sito Indiegogo Eh no Tanto vale Me ne andavo a lavorare Per i cazzi miei E me le compravo io Queste cose no? Lo so che il paragone È sbagliato ragazzi Lo so Sto dicendo un sacco di stronzate Però spero che qualcuno Abbia capito Quello che volevo dire Ok? Perché con la crisi Che c'è al mondo Uno molla il lavoro Che ha Che ha Un lavoro che si ha Per Andare a fare lo youtuber Può essere una scelta azzardata Una scelta coraggiosa Per cui tanto di cappello Io potrei anche fare i complimenti In quell'ambito E dire Cazzo Hai avuto veramente coraggio Figliolo Veramente Complimenti Tanto di cappello Io mi inchino Al tuo coraggio Che hai avuto Soprattutto in questo periodo E però poi mi cadi Però poi mi cadi Perché mi vai a creare un sito Dove chiedi ai bambini Di donarti Dei soldi Per fare i cazzi privati No Perché il microfono Te lo compri con i soldi Della partnership Perché la scheda video Te li compri con il microfono Della partnership Perché molte cose Te le compri Con il microfono Della partnership Il team speak Ti viene fornito Dalle aziende Che può essere game hosting Che può essere nitrado Che può essere Qualsiasi altra cosa Creeper hosting Te lo offrono Agli youtuber Lo offrono gratis Di quanti slot Tu voglia I server pubblici Te lo offrono gratis Le aziende Non prendiamo per il culo L'utenza Ok Perché allora Non è più una scelta Coraggiosa Quella di mollare il lavoro È una scelta Azzardata Bastarda Perché stai usando La mente Dei bambini Per fare questo Quando dico bambini Ragazzi Ora molti voi Stanno commentando Luco Ma anche tu Ti fai donare Il live da bambini Sì porca troia Sì È vero Anch'io ho ricevuto Le donazioni Ma ho dimostrato Anche in live Che se la donazione È un dollaro Per quanto possa significare Ed essere importante Un dollaro Molte persone Sono difficili Da rintracciare Ok Molti altri L'ho pubblicato In live Per cui tutto registrato Posso mostrarvi Anche la mia paypal Quando le donazioni Iniziano ad essere importanti 50-100 dollari Sulla donazione Ti viene nome e cognome Di chi ti ha donato Io ho rintracciato Quelle persone E qualora I genitori Fossero Perché si usa La carta di credito I genitori Per pagare su internet Un minorenne Non può A meno che non ti crei Una paypal Quella dal 16enne In poi Eccetera eccetera Vabbè Sono questioni personali Quelle Ho contrattato Le persone I genitori In questo caso Che mi hanno donato Quei soldi E detto loro Ciò che hanno fatto I propri figli Molte volte La maggior parte Delle volte Soprattutto I genitori Ne erano al corrente Al che ho ringraziato Loro stessi Ok Molte altre volte I genitori Infuriati Non erano al corrente Ho immediatamente Chiesto le mie Porto Porgo Porso Porto Ho dato Le mie scuse Ai genitori E ho restituito Immediatamente I soldi Datomi O in questo caso Donatomi Ok Posso anche mostrarvi I dati del mio paypal Ma che a voi non dovrebbe significare Un cazzo Perché basta giudicare Con i fatti in mano Giudicate ciò che vedete Ok Perché questo è il mio parere Personale E siccome Mi ci sono messo In questa storia Perché il lavoro L'ho perso anch'io Per cui Mi è dato molto fastidio Queste persone Davano me Del money grabber Del venduto Del Fa video per i soldi E ora guardate Quando uno Guardate ragazzi La legge della fisica Se tu sputi in cielo Ti ritorna in faccia Puoi sputare in cielo Quanto forte tu voglia Puoi sputare in cielo Verso il sole Ci vorranno anni Ma prima o poi Ti ritorna in faccia